Ciao ragazzi sono Spartan, come va? Si entra in una nuova battaglia con il Loki armata di Magnetar col chip lockdown Una mappa ampia, ho cambiato un po' l'angar e vi voglio far vedere come va così Allora, si prende raggio, quindi si carica barra per il 19% perché lo stesso gioco dopo giù l'Aegis e raggio con altro Vado veloce, tiro fuori arma e provo a immobilizzare quello e ce la faccio perché ho le armi di un'altra Immobilizzate i principi, entra in face shift perché ragazzi mi lo cura e deve andare a star davanti Qualcosa, oddio mi sta facendo malissimo quello, poi questo nemico mi sta bloccando, quello mi ha fatto malissimo Mi ha scaricato tutta la vita praticamente, mi ha scaricato tutta la metà vita Allora, mi sto un po' curando con la mia abilità pilota e adesso proviamo a prendere raggio centrale con questo Loki Dai, ok, quello non mi vede BAM 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 Voglio scottare un po', ah no, c'è quantum radar C'è quantum, sono morto Niente, Loki brevemente tenso, farò altri video, provo a scaricare un po' E muoio, eh sì, muoio, muoio Niente Madonna, sono un po' sopra Entriamo subito con il Fenrir, lì avete visto quanto è entrato? Boom, 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 un altro Fenrir, bene Vediamo se è tosto come il mio, innanzitutto l'ho soppresso Boom, andiamo subito, andiamo da questo qua, andiamo da questo che c'è lo scuro, questo qua fa malissimo Guardate come ti lo giuro, scanno, bam, bam Minchia la vita a tocchi cacchio Bam, schiatta, schiatta Schiattato Adesso questo Fenrir, che cosa vuole fare? Equity, mi curo, bam, bam Dai, dai, schiatta, bro Tu schiatti, sì mi ha dato anche la kill di prima double quindi quello non ci arrivo bene, allora, il ragione ho preso riflettiamo un po', poi lo mi spara ma sono noccioline anche se l'oltre ferro mi ha fatto male sono noccioline là c'è l'Arthur che dà il CD dalla parte morbida tiriamoli qualche colpetto guardate l'Arthur si è girato, si è incazzato ma mi salva sia l'absorber più mi pompo, è diventato tostissimo guardate la mia vita guardate la mia vita, mi ha ripartito l'absorber subito l'absorberoro mi ha ripartito subito quindi l'Arthur adesso mi, ecco non lo sapevo, mi ha danneggiato le gambe mi rientro col pompa su questo un triple va bene, va bene, ragazzi sto usando questo ferro aggressivissimo per sospirare il mio, va bene molto aggressivo abbiamo un po' recuperato, però adesso dobbiamo andare meglio di noi entriamo col titanino dai, mi faccio tutto campo mi faccio tutto campo e pulverizzo questo fuori dai coglioni, vai bro, bro, prossima incarnazione ci vediamo in prossima incarnazione la palla di pelo va lì in mezzo e io mazzurro, guardate quanto cambia veloce ok, il kid la palla di pelo cioè, il tipo che ho schiattato in verità lo vedo anche in questa incarnazione perché è entrato qualcosa tranne che il kid guardate che sto schiattando quello dall'altra parte della mappa il tipo è poco mobile guardate che mi vuole venire a prendere quanto è lento lui crede di farmi veramente qualcosa guardate se i condi che ti carico le armi lui è rimasto incastrato là dietro lì quell'Arthur ok, carico adesso il kid arriva il kid arriva in ritardo io mi fa la zaffata me ne vado per fortuna mi sono incastrato e quello ok adesso scatto ancora me ne vado ancora li tiro le lamate da 600 metri quello adesso madonna come ho capito come agganciare me minchia questi raggi che arrivano dal cielo che fanno malissimo va bene ho capito come agganciare scudo perché non riesco a capire perché a che cacchio mi faccio così male e vado ad amare quello vado ad amarlo da lontano bene sto in protection quanto è forte ragazzi il minus lox minus quanti simpatici vediamo se lo schiattano c'è qualcuno dentro un incognito un po' di te un incognito si qua dentro sono dei piccioncini facciamovi sentire la nostra presenza guarda quello ragazzi lo schiatto adesso lo schiatto con la prossima spinta schiattato qualcuno me l'ha schiattato prima mi ha girato il raggio sono i cacciatori di kill quello che è il raggio bene io l'amo con i miei ciclone full ciclone e andiamo qua insieme al mio titan il mio titan di supporto bene tiro il raggio ce l'ho fatta dal mio amico l'amo violento anche questo sono l'amato di plasma cosa facciamo raga carichiamo quello carica basta quando vedo un berser che carica con poca vita diventa aggressivissimo diventa aggressivissimo tutti sono mi scudizzo 280 di vita mi tirano subito giù questo mi sta antipat con questo typhoon no 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 cambia 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 l'amato l'amato prima di cadere in mezzo a 5 dai entriamo con ock adesso ho visto un po' di titani e cerchiamo di entrare potenti con ock voliamo dai facciamoli fare tutto l'egis a quello perché l'egis esce dai corner vita come un calip succhiata via e tu bro adesso ti sparo che bello ragazzi planare così con ock ok questo è un titan che mi spara dal cielo mi casto subito raggio provo a curarmi mi sorpre la vita e gli scarico il mio pulsar e i miei cosi mk2 da dentro la pancia e non si prende bene adesso si riesca a volare per me schiattare madonna guardate che male che mi faccio mi ho mangiato tutta la vita tre quarti della vita l'ho mangiata l'ho lockdownizzato e non mi ha fatto provo a scendere così bersaglio grosso sbobobob madonna raga bersaglio grosso tolgo modalità aereo e gli scarico i cosi gli scarico addosso adesso mi sta passando di mente che mi viene come siccome ecco in senso quelli sono fortissimi ok io provo questo mi sta facendo male per me mangiare gli agis il mio ravanino lui l'ho acidificato ma no non mi ha schiettato male ragazzi no quanto è forte lo rimetto sicuro nella gala il capri quanto è forte dai entriamo commander entriamo commander il mio ultimo robo raga sta partita è vulcanica allora io c'ho le armi che girano lui va di là lo mazzolo e gli passo anche tutta tutta la la soppressione allora mazzolo di qua no e lo prendo di là adesso lo prendo di là che figata le armi curvanti mi fanno impazzisti razzo a cramola tutta compagnia bella lui l'ho cosato l'ho soppresso lui crede di farmi male crede di farmi male in questa battaglia crede di vincere a lui guardate la mia vita nei culi da negligi guardate questo qua sette impulsi sette impulsi mi casta anche a scudo in verità è inutile che stassi a scudo però lo casto perché così lo riaccumulo lui si è castato anche lui a scudo cosa vuole fare cosa vuole fare cosa vuole fare cosa vuole fare schiettato male dal mio amico fortissimo lo voglio curare però ti curo ti curo ti curo vieni qua ti curo ti curo stai lì ti curo vieni vicino vicino ti curo ti saluto anche adesso ciao ciao grazie mi saluti anche tu così si fa ho Mender MK2 per venire a salupare il culo alla gente benissimo passiamo in Danny qua ormai abbiamo vinto abbiamo quattro raggi passiamo in Danny soppresso quello ma si mi sparano i titani ma che cacchio me ne fregono ragazzi è una partita super intensa ma lo sto sudando col pompa cazzo vi siamo entrati a gambe basse l'occhino non tanto ok ma tutti 6 kg 4 raggi secondo di squadra 3 milioni di danni madonna raga una poesia sta partita è stata super avvincente è super aggressiva spero vi sia piaciuta un saluto la sparta raga